La conoscenza della biografia di Francesco Saverio Geminiani è molto interessante per contestualizzare e capire le circostanze in cui una composizione di questo genere, la composizione che ascoltiamo oggi, cioè la trascrizione di una delle sonate dell'Opera V di Arcandolo Corelli, e con le condizioni e i contesti in cui essa nacque ebbe luogo. Francesco Saverio Geminiani è un compositore nato a Lucca nel 1687 da un padre violinista. Fra il 1704 e il 1706 pare che Geminiani fu a Roma dove divenne allievo di Corelli. Questa è una circostanza che non è realmente documentata dalle fonti, ma è soprattutto attestata dallo stesso Geminiani a più riprese durante la sua vita. Geminiani nel 1714, come molti altri musicisti italiani dell'epoca, si trasferì a Londra perché Londra in quel momento costituiva per i violinisti italiani un mercato estremamente fiorente, come compositori, come didatti, come esecutori, soprattutto perché il mercato della stampa musicale è alimentato da una ricca borghesia fatta spesso di dilettanti, di musica, di amatori. Appunto il mercato della stampa musicale era particolarmente ricco e remunerativo per i compositori. Quindi Geminiani nel 1714 si trasferisce a Londra dove immediatamente si accredita come l'allevo di Corelli, il principale allievo di di Corelli. Ed è un'etichetta che Geminiani fa in realtà dal punto di vista commerciale molto comodo per affermare la propria figura sul mercato difficile come quello londinese. Nel 1725 Geminiani è uno dei fondatori di una loggia massonica, la Filo Musica e Architekture Societas, una loggia massonica a carattere musicale. La prima iniziativa di questa loggia è quella di lanciare una sottoscrizione per la pubblicazione della trascrizione di Geminiani della prima parte delle sonate dell'Opera V di Corelli, trasformate in concerti grossi. Evidentemente con questa operazione Geminiani fa quello che parlavo prima, cioè si accredita sul mercato londinese come il vero erede di Corelli. La sottoscrizione ha buon successo, nel 1726 questa opera, questa prima parte delle trascrizioni, delle sonate dell'Opera V di Corelli viene pubblicata ed ha un notevole successo, tanto che l'anno successivo nel 1727 viene annunciata la pubblicazione della seconda parte di questa opera, cioè la trascrizione delle seconde sei sonate dell'Opera V, l'Opera V di Corelli è formata da dodici sonate, raccolta a cui appartiene appunto la trascrizione della follia che è eseguita. La sottoscrizione di questa seconda parte ebbe minor successo, tanto che la pubblicazione invece venne effettuata da un altro editore, Walsh, che era un famoso editore attivo sul mercato londinese. Questa operazione di Geminiani si iscrive appunto in quello che nel 1700 fu un vero e proprio culto della figura di Corelli. La comparsa di Arcangelo Corelli, della musica di Arcangelo Corelli nel mondo musicale della fine del 1600 e dell'inizio del 1700 fu veramente dirompente, perché il suo paradigma stilistico, che oggi ci appare prevedibile per molti versi, in realtà fondò un linguaggio completamente nuovo e che appunto segna una rottura molto forte con le opere strumentali della generazione precedente. Perché oggi ci appare prevedibile il linguaggio di Corelli? Perché in realtà proprio questo culto alimentò tutta una serie di imitazioni di Corelli, imitazioni molto spesso dichiarate sia in Italia che all'estero, ci sono molti musicisti da Bellinzani a Galuppi che scrivono concerti nel gusto di Corelli, ad imitazione di Corelli e anche all'estero musicisti come Telemann che pubblica una serie di sonate che chiama sonate Corellisante, fino al caso di François Couperin dove Corelli è il protagonista di una vera e propria, un'opera che gli chiama l'Apoteos de Corelli, in cui appunto Corelli viene individuato come il paradigma della musica italiana dell'epoca. Ecco, tutto ciò face sì che questo linguaggio corelliano divenne qualcosa di molto comune nella musica del settecento e che retrospettivamente a noi oggi appare quasi in qualche modo prevedibile e scontato, ma non dovette essere questa l'impressione ovviamente dei contemporanei di Corelli. Mentre nella prima parte delle trascrizioni di Geminiani dell'Opera V l'apporto del trascrittore di Geminiani è notevole ed è chiaramente percepibile, le trascrizioni delle seconde sei sonate a cui appartiene appunto la follia in realtà è un'operazione di puro riempitivo e di puro ampliamento della massa strumentale della musica, nel senso che non c'è nulla di particolarmente nuovo aggiunto da Corelli, da Geminiani alla composizione di Corelli. Quindi è una, ai nostri occhi in realtà appunto questa iniziativa appare un'iniziativa fondamentalmente commerciale. Un acceso rivale di Geminiani nel mondo, nel difficile mondo violinistico dell'italiano del settecento fu Francesco Maria Veracini, alto grande violinista, cattivo carattere, carattere che spesso lo portò a scontrarsi e a polemizzare queste contemporanee. Veracini si riferisce chiaramente a Geminiani nel suo trattato Il trionfo della pratica musicale dove parla dei parafrasisti. Cosa sono i parafrasisti per Geminiani? Leggo una breve citazione. I parafrasisti, parafrasando le composizioni altrui, pareva che componessero e chi era corto di vista credeva alle parti dell'autore di cui leggevasi sopra il nome. Tali parafrasi erano il più delle volte un cattivo mosaico di pezzettini mancanti di connessione, di buon gusto e d'espressione, senza seguito e senza esito delle loro promesse. Le cause principali di tali musichevoli misfatti erano diverse specie di reumatismi che cadono bene spesso sulle composizioni di coloro che imperitamente compongono, anzi rubano tutto quel che scrivono. Evidentemente il giudizio di Veracini è eccessivamente severo, però ci dà un'idea molto chiara delle circostanze, del contesto appunto in cui questa musica nacque.